Sì, sicuramente ho avuto diverse richieste, devo dire che la figura del direttore Angelozzi è stata molto importante avendolo già avuto e conoscendolo, ma a parte questo penso che il mio desiderio era di venire a Frosinone perché penso che qui c'è un progetto ottimo, un progetto dove si vuole far calcio e dove ci sono tutti i presupposti per poter far bene. A prescindere dai livelli personali ci siano da raggiungere degli obiettivi collettivi abbastanza importanti. Ho scelto di andare a giocare in un altro paese, di intraprendere un nuovo percorso che è durato solamente tre mesi ma ho passato dei tre mesi in Spagna belli, tre mesi dove ho imparato una nuova cultura, un nuovo modo di vivere il calcio e sicuramente è un'esperienza che mi porterò nel mio bagaglio ma adesso sono tornato e diciamo che è quello che conta. Sicuramente penso che quest'anno ci voglia la determinazione che si è vista ieri, ci voglia un'unità di intenti che è fondamentale per poter puntare ad arrivare soprattutto ai play-off.